Si concluderà domani la seconda edizione del Palio di Faiano, evento che coinvolge i serioni del Borgo Picentino in una serie di sfide che abbracciano varie discipline. Una manifestazione nata con il desiderio di riportare la gente a vivere in maniera appassionata il proprio territorio e di far riscoprire il senso di appartenenza. Il Via è la seconda edizione del Palio, grande aggregazione. Siamo veramente felici per questa unione che ha dimostrato tutto il paese. Come voglio ricordare le parole che ha detto il nostro parroco, abbiamo unito un paese colorandolo come un arcobaleno. Abbiamo diviso il paese per unirlo. Sono felice del senso di appartenenza che hanno dimostrato tutti i concittadini. Sono felice per il clima che si è creato. Partecipano tutti, dai grandi ai piccoli, alle signore. E questa è la cosa che mi rende davvero felice. Oltre alla grande partecipazione dei nostri concittadini voglio ringraziare tutto lo staff e le persone che ci sono dietro alla grande preparazione di questo evento. Perché dovete capire che davanti guardate lo spettacolo, ma dietro le quinte c'è tanto, tanto, tanto lavoro. Un ringraziamento speciale va a tutti loro. Grazie.